Siamo con Romina Mondello, protagonista della commedia Amami Okado, in scena al teatro Menotti, nell'abito del festival Talking Menotti. Vogliamo sapere qualcosa in più? È una commedia d'amore? Allora, quanto mi piace questa cosa che scendono le persone e arrivano in teatro e quindi siamo per presentare tanti spettacoli che fanno parte di questo festival, che è la seconda edizione, Talking Menotti. Amami Okado racconta la giornata speciale di Rosa, che... ma Enzo lo sa meglio come è? No, Gregorio Paolini, sono Gregorio Paolini. Dai, ma quando lo fai Gregorio Paolini? No, adesso. Sai quello che appare sempre dietro, ma adesso l'hanno incarcerato. Quindi non va più bene. Ma tu sei più bello Enzo, ma che dici? Spostami, sono libero. Poi ne parliamo. Dai, dai, notizia bomba eh, me lo dico, notizia bomba. Io lo amo questo... E quindi vedi, ecco, amami o cado è proprio questo, che senza l'amore... ma tu torna qui. E' stata la popata forse. Ecco, senza l'amore poi si cade, appunto. Ormai è il surreale, non riesco neanche più a parlare. È il bello un po' il bello della diretta. Ci piace così, il teatro è anche questo e io voglio fare questo. Io non amo nulla che sia preparato e quindi insomma un po'... Lo spettacolo un po' lo è, perché in realtà è scritto, adesso torniamo serie, è scritto da Giovanna Mori. C'è stato un adattamento molto forte, abbiamo lavorato molto sul testo per adattarlo a me. E questa giornata di Rosa spero che, insomma, che è una donna metropolitana, una donna forte con anche le proprie fragilità, ma come tutte le donne. Quindi non voglio dire banalità, mi è piaciuta di più la cosa con Ezio. Quindi venite a vedere lo spettacolo dal 16 al 20 maggio al Teatro Menotti qui a Milano. Amami o cado, vi aspetto.